Lunedì, Natale con cielo coperto in Liguria e lungo le coste adriatiche, possibili nebbie in pianura padana, ampio soleggiamento in montagna e dove non ci sarà nebbia. Martedì, giornata che trascorrerà con la presenza della nebbia, anche diffusa in pianura e sulle vallate. Cielo grigio in pianura e schiarite soleggiate sui settori alpini. Lunedì, giorno di Natale con cielo coperto su Toscana, Umbria e Lazio, qui con piovaschi, più sereno sul resto delle regioni. Temperature che non subiranno grosse variazioni. Martedì, la giornata di Santo Stefano trascorrerà con cielo spesso coperto su Toscana, qui con piovigine, Umbria e Lazio, sarà poco o irregolarmente nuvoloso altrove. Lunedì, Natale con l'anticiclone pertanto la giornata sarà caratterizzata da un cielo che si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso. Venti deboli, temperature in leggero aumento. Martedì, pressione stabile sulle regioni pertanto il cielo si presenterà con tante nubi sui settori tirrenici, tutti e solo a tratti nuvoloso sul resto delle regioni. Clima piacevole. Grazie a tutti.